Musica Andiamo all'appello Buonasera a tutti Colleghi Nicosia Andrea Presente Vinci Guerra Salemi Presente Frasca Giorgi Cannata Cannata assente Denaro Denaro assente Miccoli Barrano Iaquez Mazzone Mazzone assente Scuderi Assente La Rosa Assente Motta Pino Ragusa Argentino Re Assente Nicosia Fabio Assente Assente Sigia Sara Di Falco Assente Romano Nicastro Assente Consiglieri presenti 14 Consiglieri assenti 10 La seduta è valida Procediamo alla nomina degli scrutatori individuati nei consiglieri Ragusa Consigliere Barrano e il Consigliere Zorzi Passiamo quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno Approvazione verbali sedute precedenti Verbale numero 204 del 31 ottobre 2016 Verbale numero 203 del 25 ottobre 2016 Verbale numero 202 del 25 ottobre 2016 Verbale numero 201 del 25 ottobre 2016 Verbale numero 200 del 24 ottobre 2016 Verbale numero 199 del 24 ottobre 2016 Verbale numero 198 del 24 ottobre 2016 Verbale numero 197 del 24 ottobre 2016 Verbale numero 196 del 24 ottobre 2016 Verbale numero 195 del 24 ottobre 2016 Se nessuno ha da eccepire qualcosa in merito ai verbali li diamo per approvati Passiamo quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2011. La Commissione consigliare ha espresso parere favorevole, presenta l'atto il Sindaco. Prego, signor Sindaco. Sì, Presidente, consiglieri, io sarò molto breve. Si tratta non peraltro di un altro atto che va a seguire quella della relazione di inizio mandato, che noi abbiamo parlato a luglio. Mancava una parte, che era la parte di integrazione del nostro programma, che era stato fatto fra il primo e il secondo turno delle elezioni. Quindi non si tratta altro di documenti che già voi conoscete, perché la relazione di inizio mandato è passata, le linee strategiche sono passate. Quindi è soltanto una ripetizione, è un atto dovuto che è previsto dalla legge. Quindi neanche mi soffermo più di tanto, perché è un atto che tra l'altro, lo ti ripeto, avete affrontato già forse con due delibere più in commissione, quindi inutile parlare. Parliamo del programma amministrativo che tutti conosciamo, poi chiaramente lascio libero il dibattito, ma già penso che abbiamo ampiamente dibattuto in passato di questo argomento. Grazie. Grazie signor Sindaco. Se non ci sono interventi sul punto, mettiamo ai voti l'atto. Prego segretario. Vinciguerra, Nicosia Andrea, Sanlemi, Trasca, Zorzi, Cannata assente, Denaro assente, Miccoli, Barrano, Iacquez, Mazzone assente, Scuderi assente, Larosa assente, Motta, Pino, Ragusa, Argentino, Re assente, Nicosia Fabio assente, Sigia, Di Falco assente, Mascolino assente, Romano, Lonicastro assente, Consiglieri presenti 14, Consiglieri favorevoli 14, il punto è approvato. Passiamo alla trattazione del terzo punto. Presidente, mi scusi, c'è una richiesta di prelievo del... delle interrogazioni poste al... come è aggiunta all'ordine del giorno, odierno. Quindi sarebbero... Formalizza quindi il prelievo dei punti 7, 8 e 9 all'ordine del giorno. Così c'è il Sindaco, benissimo. Passiamo quindi, se non ci sono interventi, passiamo alla votazione del prelievo, così come richiesto dal consigliere Vinciguerra. Prego, segretario. Vinciguerra? Favorevole. Nicosia? Favorevole. Salemi? Favorevole. Frasca? Sì. Zorgi? Favorevole. Cannata assente, Nero assente, Miccoli? Favorevole. Barrano? Sì. Iacquez? Sì. Mazzone assente, Scuderi assente, Larosa assente, Motta? Sì. Pino? Sì. Ragusa? Favorevole. Argentino? Favorevole. Re assente, Nicosia, Fabio assente, Sigia? Scusi, io non ho capito... capito una cosa. Cosa stiamo facendo adesso? Stiamo prelevando... Perché proprio per le interrogazioni? Perché probabilmente c'è il Sindaco ed è stato chiesto in modo tale che possa rispondere. Gli interroganti, tra l'altro, sono presenti in aula, quindi... così possiamo affrontarle con precedenza. Grazie. Di Falco assente, Mascolino? Eh... Favorevole che si è stata proposta quando io ancora non ero in aula. grazie. Grazie. Grazie.